Risultati in termini di prevenzione, repressione dei reati, vicinanza dei poliziotti ai cittadini, garanzia di sicurezza, esserci sempre e racchiusa in queste due parole il light motive, l'hashtag scelto per la celebrazione di quest'anno del 167esimo anniversario della Fondazione della Polizia. Stamani, come in altre città d'Italia, anche a Salerno si è svolta la festa. Il Salone degli stemmi del Palazzo Arcivescovile, la location scelta per la cerimonia, aperta dal discorso diritto del questore della provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, e con la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, del Capo della Polizia, del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. La sicurezza resta la nostra priorità, ha ribadito più volte il questore, mentre aumenta il numero delle segnalazioni di stalker, di violenza e danni delle donne, ciò che preoccupa di più è la criminalità predatoria, perché coinvolge soprattutto il cittadino comune e fa crescere un clima di insicurezza. E per fortuna in questa città, diversamente dalle altre, non si riscontrano in questo momento particolari criticità, ha continuato il questore. Particolare attenzione quella riservata comunque alla Movida, ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani, già in fase di attuazione, anche un piano specifico per l'estate. Consegnate stamani nel corso della cerimonia anche le onorificenze agli appartenenti della Polizia di Stato, che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Nella ricorrenza noi non ho mancato il ricordo di quanti appartenevano alle passate generazioni e la spinta verso il futuro dei giovani poliziotti che indossano la divisa da pochi mesi. Una ricorrenza importante, quella di oggi, per il questore Ficarra, che rafforza il legame della Polizia con il territorio. Il nostro motto ha detto a esserci sempre e noi ci siamo anche quest'anno. Un pensiero è stato rivolto anche il prefetto russo, colpito dalla perdita della madre, a farne le veci, il vicario Forlenza, presente tra gli altri il presidente della provincia strianese, il sindaco di Salerno Enzo Napoli, l'arcivescovo Luigi Moretti. Per noi la festa è sempre un momento molto bello, è un momento che ci unisce alla cittadinanza, cerchiamo sempre di farli fuori dalle nostre mura, dalle nostre feste. Oggi siamo venuti in questo splendido palazzo della Curia Arcivescovile, che è un po' la casa di molti salernitani. La Polizia, il suo motto voi sapete qual è esserci sempre e noi cerchiamo di esserci sempre in tutte le circostanze. È anche l'occasione per fare un bilancio, tracciare un po' il quadro della situazione. Qual è l'elemento particolare? Beh, sì, è vero, noi facciamo il bilancio e diciamo sempre che siamo moderatamente soddisfatti della situazione nella nostra provincia, perché i dati sono piuttosto confortanti. Sappiamo sempre che a volte tra la percezione della sicurezza e la paura c'è sempre un po' di differenza tra la realtà dei fatti, però noi facciamo in modo che il cittadino possa sempre provare meno paura nell'attività della vita di tutti i giorni e i nostri dati, ripeto, ci confortano in questo senso. I dati, ripeto, ci confortano dal punto di vista statistico, perché non ci sono. Ci sono le evenienze di tutti i giorni, la criminalità predatoria, questa è quella che ci preoccupa di più, perché purtroppo spesso si rivolge nei confronti dei cittadini un po' più deboli. E allora è lì che noi stiamo cercando di attenzionare maggiormente il problema dal punto di vista proprio della repressione, della criminalità predatoria. E in questo senso stiamo lavorando. I piani particolari a cui già stiamo lavorando sono intanto per il controllo dell'ordine pubblico nella città in generale e come ho già detto a qualche altro vostro collega, anche per quanto riguarda la sicurezza dei giovani che frequentano i luoghi più affollati, i luoghi di intrattenimento o altro, stiamo mettendo in piedi una task force con altre forze di polizia per fare in modo che la gente si possa divertire, soprattutto i giovani, nella massima sicurezza possibile.